E allora si sente esigenza che qualcosa accada, si richiede la presenza di colui che ha dato un motivo a tutto, gli si chiede di tornare. Allora Gesù ritorna sulla terra, dà appuntamento sul cine a migliaia, a milioni di persone che aspettano la sua parola, per fare dei miracoli e dimostrare che il miracolo è vero, che tutto esiste. Salve, sono D'Ornau, sono sempre io, Gesù. E allora fratelli e sorelle siete pronti a conoscere i miei amici che hanno bisogno di tanto aiuto, sì o no? Sì o no? Sì o no! E allora, avanti, il primo. Salve, fratelli, entrate, entrate, entrate. Veloce! Ma non è meglio se vieni tu? Tieni, tieni. Stampelle, stampe. E allora, figlio mio, abbassati in giocchiere di fronte a me. E allora, figlio mio, qual è il tuo santo nome? Mi chiamo Simone. Che bell' nome, Simone. Ma mi chiedo, qual è il tuo problema che non capisco? Io ho un'estampelle. Questa? Questa è? Questa è il mio nonno. Mi sta legnando. E' il santo nome? E' un po' comunque. Io vorrei camminare, come tutti gli altri. Eh, lo vorrei. Vorrei correre, come i miei compagni di scuola. Ma? Vorrei sentire le mie gambe, perché non le sento. Ci credo. Va bene? Se questo è il tuo desiderio, lancia un muro. Vai là dietro, prega, e poi di cammino, va bene? Va bene. Va bene. Non c'è bisogno di una... No? Se ce la fate, guardate come cammina qua. Se faccio così. Fai come vuoi, basta che vai dietro il muro, Simone. Anche no, qua. Sotto, 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 sotto. Salve Gesù. Salve. Il tuo nome invece... Andate in ginocchio, per favore, perché... Io sono Gesù, vedete tutti in ginocchio, da mangiare. Pio, 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 pio. Pio, pio, pio. Pio, 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 pio. Pio, pio. Pio, pio. Pio, pio, pio. Pio, pio. Pio, 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 pio. Ripete. Allora, devi concentrare un pochino di più qui. Allora, qual è il tuo santo nome? chiesà chi è lei? i guantieri sono allora, qual' eighteen? Dopodutto questo tempo in cui ci siamo visti, in cui abbiamo parlato, io non capisco qual è il problema. Io vorrei parlare come tutti, no? Ma sì, direi, e allora se questo è il tuo santo desiderio, è il salvificio, lì c'è un muro, ora ti alzo, se tu sei camminato. Non so se hai problemi, perché prima ho mandato un ragazzo e ho avuto tanti, massimi problemi a camminare, ma non mi sembra il tuo santo, vero? Ecco, bravo. Non capisco perché erano i capelli pubblici. E allora? Siete pronti al momento più bello? Il momento del miracolo? E infatti c'è con lui la preghiera. Giù! Su! Giù! Giù! Giù su! Giù giù! Un tricchio! Cotto! Ok, cominciamo. E' piaciuta la preghiera? Va bene, è arrivato il momento del miracolo. E allora? Simone! Getta la prima stampella! Simone, getta la seconda stampella! Quanti anni vuoi parlare? Sì, 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 di Maragosgrado! No! 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 Grazie.